Bene, buongiorno a tutti. Oggi, con oggi abbandoniamo Express e Node, continuiamo ovviamente a parlare di JavaScript, ma quella parte del corso, come vi dicevo alla prima lezione, con oggi praticamente, con la volta scorsa, si è praticamente conclusa, perché con oggi iniziamo a lavorare sulla parte di front-end degli argomenti del corso. Ri-useremo Express e i server che abbiamo e avete anche nel laboratorio realizzato verso la fine del semestre, ma useremo, non andremo a modificarlo, semplicemente lo useremo, quindi tenetelo da parte. E poi invece andremo anche a metterci mano di nuovo proprio all'ultima settimana del corso, quando introdurremo l'autenticazione, perché lì ovviamente avremo bisogno di rioperare sul server per modificare come gli utenti, i privilegi degli utenti vengono gestite anche lato, ovviamente, server. Quindi, prima di muovere, andare avanti, ci sono domande sulla parte di Express, visto che nell'ultima settimana non ci siamo visti, so che a Ingegneria del Software avete incominciato a usarlo, e là, se non sbaglio, lo usate in maniera un po' più articolata di quanto lo stiamo usando qui, in quanto noi ci focalizziamo sul front-end, mentre loro ovviamente si focalizzano su aspetti più vicini all'ingegnere del software che non sono ovviamente strettamente appartimenti qui. Però, visto che anche lì lo usate, se avete domande generali adesso o specifiche dopo, se no, proseguiamo. Proseguiamo. Come dicevo, oggi iniziamo a lavorare su front-end. La prima ora di oggi la dedichiamo a HTML CSS, che voi avreste già dovuto leggere un reading, un documento che vi abbiamo dato su questi aspetti, quindi in quest'ora facciamo un esercizio pratico su quegli aspetti. E poi nella seconda ora iniziamo a parlare invece di JavaScript nel browser, quindi non più JavaScript che funziona nell'execution environment di Node, che è lo stesso che poi usa il server, ma all'interno di un browser dove ci sono delle differenze, seppure il linguaggio ovviamente rimane lo stesso. settimana prossima farete durante le tre ore di lezione, saranno dedicati interamente a un esercizio su JavaScript nel browser. Quindi le cose che oggi vedremo in teoria saranno poi esemplificate in quelle tre ore con calma, eccetera. E queste cose sono, in un certo senso, fondamenta per quello che poi andremo a fare dopo in React. Quindi non le useremo direttamente, esattamente come le usiamo oggi e come le userete la settimana prossima, ma ci servono per capire perché React funziona in un certo modo e perché certe cose vengono eseguite in un certo modo, seppur non usando specificatamente quello che andremo a vedere in questa settimana e nella prossima, che sarà appunto esercizi relativi a questo. Quindi questo è quello che ci aspetta nelle prossime due settimane, dopodiché inizieremo React e proseguiremo con React fino al termine del corso. Ok? Allora, facciamo, come dicevamo, un esercizio che ci fornisce anche la nostra applicazione web, la nostra prima pagina dell'applicazione web, che poi porteremo avanti anche con React. Quello che vogliamo fare è, quello che vogliamo fare oggi, in quest'ora, è creare un prototipo della nostra interfaccia web per un sito di domande e risposte, lo stesso sito che poi andrà a consumare e chiamare le API, che abbiamo definito in Express, che chiamiamo App Over Run e userà HTML CSS. E il sito consisterà di due pagine, di cui noi qui faremo la seconda. è la prima pagina che è la index, la home page, che mostrerà una tabella con la lista di tutte le domande. Quindi le stesse domande che avevamo in precedenza, quelle stesse domande le visualizzeremo in una lista di domande. E ogni domanda dovrà linkare, dovrà avere un link alla seconda pagina, che è la pagina di nuovo che faremo oggi. La seconda pagina è la pagina delle risposte, che mostrerà tutte le risposte di una data domanda, semplicemente. E la pagina dovrà mostrare queste informazioni, alcune informazioni sulla domanda, in modo che vediamo le risposte, ma ci ricordiamo anche nella stessa pagina qual è la domanda a cui queste risposte rispondono. e una tabella, quindi non una lista in questo caso, ma una tabella, che contenga tutte le risposte dati fino a quel momento. La pagina che faremo oggi sarà statica, quindi non ci saranno funzionalità interattive, che aggiungerete settimana prossima. E tutti i dati devono essere inclusi nella pagina HTML. Quindi partiamo lavorando solo con HTML e CSS. e per lo stile della pagina useremo Bootstrap e useremo la versione 5.3 e seguenti, adesso non so se sia 5.3, .1, .2, .3, qualunque cosa, per compatibilità con librerie future che useremo in React. e come dicevo faremo questa prima... partiremo dalla seconda pagina, questa Answers, la pagina delle risposte. è chiaro cosa dobbiamo fare, sì? e c'è anche un bellissimo disegnino che ci racconta più o meno come vogliamo che sia questa pagina. Quindi questa pagina avrà una barra di navigazione, qui in alto, dove ci sarà un titolo, ovviamente non con queste proporzioni, ci sarà poi il testo della domanda, ci sarà scritto da qualche parte chi è l'autore della domanda, ci sarà poi un'intestazione che dirà da qui in poi ci sono le risposte, la tabella delle risposte, e la tabella avrà cinque colonne, le prime quattro sono le informazioni che abbiamo già sulle risposte, la data in cui è stata inserita la risposta, il testo della risposta, l'autore, la sua mail, lo score, e poi ci saranno una colonna azioni che avrà dei bottoni per fare varie operazioni su quella determinata risposta. E poi ci può essere un'ultima colonna, inseriremo un'ultima riga in questa tabella che sarà sempre presente, in cui ci saranno i campi vuoti per potenzialmente inserire una nuova risposta. Ovviamente non la inseriremo, ma la tabella sarà predisposta per farlo. E infine ci sarà un footer che dirà copyright 2024, applicazione web 1, web application, qualunque cosa bisognerà scrivere nel footer. Ok? Io sento parlare ma non con me, quindi se avete domande è il momento buono per farle. Se no. Ok? Quindi questo è quello che vogliamo fare in quest'ora e mezza. Usando HTML e CSS. Ora, dando per scontato che voi tutti abbiate, o sappiate HTML e CSS, o comunque abbiate letto il documento, quanti di voi conoscono o hanno usato Bootstrap? Ok, quasi tutti. Che cos'è Bootstrap? Era una domanda per voi. Che cos'è Bootstrap? Ho sentito delle risposte giuste ma non ho l'udito di un cane, quindi dovete alzare un po' la voce. Che cos'è Bootstrap? Sarà una lunga mattina. Tutta la gente che l'ha usato, no? Che cos'è? Per cosa l'avete usato a fare? Così, perché non si parla di cosa fare, ma sì, usiamo Bootstrap. Perché no? Per delle librerie CSS. Quindi è un framework CSS. Che cosa ci offre Bootstrap? Perché possiamo usare una cosa come Bootstrap per avere delle librerie CSS. Cioè, in maniera più concreta, degli stili già fatti. Per esempio, facciamo più concreti. La barra di navigazione già fatta, di bottoni con i colori già fatti, eccetera. Quindi Bootstrap ci mette a disposizione dei... non solo un layout in cui strutturare la pagina in colonne, una colonna, due colonne, dieci colonne e quant'altro, in base a quello che ci serve, ma anche dei componenti come per esempio la barra di navigazione. Quindi ci dà un componente che chiama barra di navigazione in cui si possono inserire alcune determinate cose per avere alcune funzionalità in un certo modo. Quindi per esempio, questa è la sua barra di navigazione e questo è il codice nella documentazione di Bootstrap che produce quella stessa identica barra. Quindi se voi copiate e incollate questo in una pagina HTML ottenete esattamente questa. E così via. Poi la barra di navigazione si può personalizzare, si può mettere un'immagine invece del titolo della pagina, si può mettere sia l'immagine che il titolo, si può cambiare colore. e ci sono dei colori predefiniti ma se ne possono anche personalizzare e cambiare. Ci sono, giusto per fare degli altri esempi, delle card. Se ci fosse bisogno di inserire delle card in una pagina web c'è già un template di card offerto da Bootstrap che di nuovo con il suo codice riportato sotto che poi si può personalizzare. Per esempio si può estendere, si può cambiare il colore e anche in questo caso ci sono già dei colori predefiniti. E per ognuno di questi c'è poi ovviamente anche il codice corrispondente sotto per generarlo. E via così. Ci sono anche i modali con eventuali demo che vi mostrano come funzionano. Quindi ci offre una serie di componenti già fatti personalizzabili per costruire un'applicazione web. Bootstrap è... Noi usiamo Bootstrap in questo corso per due motivi. Uno perché è relativamente semplice. come vedrete molte delle volte sarà fare copia e incolla di questa documentazione, copiare da questa documentazione da questi esempi, incollarlo nella nostra pagina e poi modificarlo al bisogno. Perché ovviamente l'esempio così com'è non ci va bene, non ci basta un qualcosa che abbia come titolo titolo. Ovviamente. E... Stesso modo se abbiamo bisogno dei bottoni qui ci sono vari tipi di bottoni con vari tipi di... con vari colori che si possono applicare in base al bisogno col bordo, senza bordo e varie varianti di questi bottoni. Dicevo, lo usiamo per due motivi. Uno perché è semplice e due perché se invece qualcosa non ci piace o lo vogliamo fare diversamente possiamo scrivere CSS normale in un file CSS separato e sovrascrivere il comportamento di Bootstrap. Quindi questa semplicità va bene soprattutto per chi non ha mai usato un framework CSS come questo e il fatto che possiamo sovrascrivere i comportamenti usando solo CSS quindi senza dover creare nuovi file di configurazione per Bootstrap o quant'altro ci dà la possibilità di lavorare direttamente con CSS. Esistono framework giusto per la vostra conoscenza nel caso in cui invece vogliate a un certo punto nel futuro esplorare alternative meno semplici e meno standard diciamo di Bootstrap esistono framework che hanno magari più flessibilità nel fare le cose e sono anche più potenti da un certo punto di vista nelle cose che è possibile realizzare come per esempio Tailwind che però ha per esempio un file di configurazione se si vogliono fare certe determinate cose e quindi richiede un approccio diverso che per iniziare abbiamo ritenuto non essere tanto appropriato quindi Bootstrap è decisamente più semplice da quel punto di vista ok? quindi quello che noi andremo a fare adesso è creare questa pagina qui in HTML prima e poi aggiungeremo tramite Bootstrap e per cui non abbiamo niente da installare in questo caso dobbiamo solo scrivere codice in un file HTML e andiamo a dare un po' di stile a questa pagina fino alla fine della prima ora di oggi ok? quindi tenendo questo a mente possiamo tenerlo qui creiamo un file che si chiama answers.html vedete la informazione o bisogna incrementare lo zoom incrementare un pochino e poi adesso che scrivo vediamo se allora partiamo dalla pagina HTML visto che ormai siamo tutti esperti di HTML cos'è la prima cosa che dobbiamo scrivere in una pagina HTML? doc type che cosa è doc type? è giusto ma perché? convenzione non proprio solo convenzione no? fa parte proprio della struttura di ni non solo per motivi storici che cos'è doc type? cosa dice al browser doc type? che quello è un file HTML e specificatamente il doc type questo doc type qui vedete o ancora un po' ancora un po' qualcuno ancora un po' qualcuno vedete ok questo doc type qui e in parte esiste per motivi storici sono d'accordo ma questo doc type qui è un tag speciale che identifica anche la versione di HTML che stiamo utilizzando perché questo è il doc type di quello che possiamo chiamare HTML 5 che è la versione attuale perché è una versione in progress è una versione live di HTML e quindi identifica che non stiamo lavorando in HTML 4 o 3 ma stiamo lavorando con una versione contemporanea dove contemporanea identifica gli ultimi 10-20 anni di HTML ok poi quali sono le due parti obbligatorie in un file HTML si dentro HTML ok l'altra cosa è che dobbiamo definire il tag HTML possiamo definire un linguaggio per esempio diciamo che è in inglese all'interno del tag HTML quali sono le due parti obbligatorie che dobbiamo avere add e body perfetto che cos'è add intestazione più o meno contiene delle informazioni relativa alla pagina che vengono visualizzate nella pagina oppure no sono informazioni che non vengono visualizzate nella pagina alcune di esse vengono visualizzate dal browser per esempio nel titolo del tab del browser o della finestra del browser ma non sono visualizzate nella pagina e quindi per pagina questa è la pagina tutto questo che c'è qui all'interno è la pagina tutto il resto che è fuori fa parte del browser non fa parte della pagina quindi la barra dell'indirizzo il titolo del tab o della finestra eccetera non fa parte della pagina ma fa parte della finestra del browser ok cosa ci mettiamo nel led il titolo prima del titolo ma mettiamoci il titolo il titolo il titolo si mette con title con tag title e abbiamo detto che il titolo è hip overrun poi cosa potremmo anche mettere nel led i vari meta come per esempio il char set che mettiamo a utf8 che cosa sono i meta questi meta per cosa sta meta per metadata quindi che cosa sono i metadata informazioni sui dati perché meta perché metadati e non dati sono dati che parlano dei dati sono dati che parlano dei dati quindi sono informazioni che raccontano alcuni aspetti del documento html che stiamo scrivendo per esempio che questo documento avrà come codifica di caratteri utf8 oppure per esempio possiamo mettere un meta che ci dica che che la descrizione della pagina è relativa a le domande le risposte oppure potremmo mettere un meta in questo caso sono meta generici che dice che l'autore della pagina è per esempio applicazioni web 2024 quindi informazioni che ci dicono qualcosa della pagina e ci sono alcune informazioni che sono totalmente facoltative come per esempio queste questa description e questo content sono informazioni aggiuntive che raccontano cose della pagina ma non sono statamente necessarie da avere a chi sono utili queste informazioni visto che non le vediamo nella pagina a chi in teoria potrebbero essere utili queste informazioni dato che non le vediamo nella pagina al browser per alcune al browser tipo la codifica dei caratteri altre la descrizione l'autore sì diciamo inizialmente hai motori di ricerca comunque hai dei software adesso i motori di ricerca non si basano più tanto su questi attributi meta analizzano direttamente il contenuto della pagina però inizialmente erano informazioni utili per i motori di ricerca e sono comunque informazioni utili per eventuali software che vanno ad aprire questa pagina e possono utilizzare queste informazioni per avere informazioni sul contenuto della pagina senza dover andare a leggersi l'intero contenuto della pagina ok abbandoniamo l'head il body invece che cosa inseriamo nel body che cosa quello che inseriamo nel body dove viene visualizzato nella pagina quindi se noi nel body scriviamo ciao e apriamo questo file questo file direttamente nel browser facendo doppio clic o trascinandolo nel browser uguale vediamo che ok adesso ho fatto un ruolo ingrandire dove è finito dove è finito volevo fare un po' di zoom senza distruggere la pagina però ok vediamo che la pagina ha scritto dentro banalmente ciao e se dal browser fate ispezione elemento vedete che magari non vedete tanto perché questo non si può zoomare vedete che c'è l'head con le informazioni che avete inserito e poi semplicemente nel body c'è scritto ciao senza nessuna proprietà particolare solo testo ok ora noi non vogliamo scrivere ciao cosa vogliamo fare cosa vogliamo fare no sì a un certo punto anche la tabella ma prima della tabella che sta qua cosa ci serve questo questa navigation bar col titolo ok quindi cosa scriviamo prima di andare su bootstrap facciamo l'html lasciamo stare lo stile in questo momento in html se volessimo fare una navbar con un titolo che cosa useremmo scusate dito di nuovo nav o div perché nav o div qual è la differenza div crei un divisore un blocco a cui puoi dare dello stile lo ripeto lo ripeto giusto per per chi magari non ha sentito mentre nav crea un blocco in cui si inserisce tipicamente elementi di navigazione possiamo dare uno stile anche nav però no sì quindi qual è la differenza tra nav e div a entrambi possiamo dare uno stile giusto sì no non è che siamo vietati è vietato no entrambi sono blocchi nel senso che cosa vuol dire che un elemento di tipo blocco in html sì il fatto che un elemento di tipo blocco non sia in line va bene e che cos'è quindi cosa vuol dire in pratica che il prossimo testo andrà a capo i blocchi sono messi uno sotto l'altro come fossero dei mattoncini lego in line invece sono elementi che vengono messi uno a fianco all'altro come fossero parole su un foglio di carta entrambi sono in tipo blocco torniamo al nav e al div perché ne abbiamo due da cui scegliere? per la semantica quindi? sì 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 esatto 99% corretto div è il blocco base quindi non ha una semantica associata è un contenitore qual è il senso di quel contenitore? non è specificato dal linguaggio nav e altri sono invece blocchi non sono non sono blocchi che partono dal div sono blocchi esattamente come il div ma che hanno un significato semantico per cui nav sta per navigazione e quindi possiamo usare nav ma questo nav lo includiamo in un altro tag che potrebbe essere perché è vero che questa è navigazione no? però la navigazione potrebbe stare all'inizio in basso, a destra in quale altro tag potremmo metterlo? sì? ditelo più forte header perché è comunque la parte superiore di intestazione della pagina quindi è l'header della pagina e questo è un tag di nuovo semantico quindi dentro header avremo una barra di navigazione in cui in realtà non abbiamo molta navigazione in cui potremo però andare a scrivere dal nostro disegno dal nostro disegno un header di tipo di livello 1 in cui scriviamo ip overrun di nuovo perché è il titolo della pagina no? e possiamo anche aggiungere in realtà domanda 1 perché queste sono le risposte della domanda 1 quindi se noi ricarichiamo la pagina questo ha tanto zoom vediamo che invece del ciao è comparso questo grosso che se togliamo lo zoom non è così grosso titolo ingrassette quant'altro ok e cosa vuol dire H1? header di primo livello quindi quanti livelli ci sono per gli header? 6 e quale delle seguenti frase è giusta ogni header è più piccolo rispetto al precedente e quindi più piccolo con meno grassetto eccetera oppure ogni header ha meno importanza rispetto al precedente entrambe? entrambe non è la risposta e neanche nessuna delle due ce n'è una più giusta delle altre chi dice la prima quindi che gli header di diverso livello è perché l'header 1 è più grande e sempre in ogni caso più grande e più in grassetto dell'header 6 chi dice questa? tre persone il significato dell'header 1 è che l'header 1 è più importante è più prominente dell'header 6 indipendentemente quindi da come appare chi dice questa? ok un po' di più è in effetti la seconda quindi i livelli degli header indicano l'importanza relativa la prominenza relativa il fatto che poi il browser o il CSS decide di default di avere un header 1 che sia più grande e più in grassetto è una scelta stilistica che non ha a che fare con l'header uno potrebbe avere un header 1 che è rosso e un header 2 che invece ha altri colori e quindi la differenza di priorità potrebbe essere data solo in base al colore per esempio o al font o ad altre proprietà che non sono necessariamente la grandezza del carattere e il grassetto come nel caso del font di default che il browser applica in questo caso ok ok dopo l'header cosa dobbiamo inserire? non la tabella cosa dobbiamo inserire dopo l'header? un paragrafo va bene un paragrafo e dentro al paragrafo dobbiamo scrivere il testo della domanda quindi mettiamolo grassetto e scriviamo domanda 1 due punti e e magari in un altro paragrafo scriviamo la domanda la domanda era è javascript sempre la stessa meglio di python e poi cosa ci chiede questo? ci chiede anche l'autore quindi mettiamo un altro paragrafo con l'autore è buono giusto? domanda abbiamo aggiunto domanda 1 giusto per ricordarci che stiamo parlando domanda 1 come versione in grassetto la domanda è l'autore e chiedeva anche ask by così che cos'è strong qui è un indicatore che ci dice che il testo è più importante e di default viene rappresentato come grassetto questo però è il default non è obbligatorio che sia così potrebbe anche essere il grassetto e il cursivo strong o più grande di font indica solo che quello ha un'importanza maggiore rispetto a un paragrafo senza strong c'è in html un tag per dire invece grassetto sì che b che è un tag che è stato sostituito esiste ancora funziona ancora è sostituito da strong perché b non ha un spiegato semantico indica proprio una funzionalità grassetto ok poi cosa dobbiamo scrivere qui ci serve answers abbiamo detto che è un header quindi che header mettiamo qui che livello di header mettiamo qui h2 perché h2 perché prima c'era h1 è una risposta è una risposta giusta allora html ci permette di mettere qualunque tipo di header h1 e h5 se volessimo per motivi di accessibilità è raccomandato usare gli header in ordine numerico corretto quindi 1 2 3 4 5 6 quindi dopo h1 viene h2 capita però che nelle pagine non si rispetti questo ordine quindi dopo h1 si metta un h5 un h3 questo non dovrebbe capitare però è licito in html che capiti va bene e adesso finalmente la la tabella come si scrive una tabella? table poi ci serve l'intestazione della tabella con data testo autore score e azioni come si scrive l'intestazione della tabella? t-head esatto e poi dato che c'è un t-head ci sarà un un t-body che rappresentano in questo caso l'intestazione della tabella e il corpo della tabella ok cosa andiamo a mettere nel t-head? allora la tabella in html si fa descrivendo prima la riga e poi la celle all'interno della riga e quindi se avessimo molteplici righe avremmo la prima riga con le sue celle e poi la seconda riga con le sue celle in questo caso quante righe abbiamo nell'intestazione? una quindi dobbiamo inserire una riga e la riga è tr table row e all'interno abbiamo le sue celle che nell'header si chiamano th quali sono le celle dell'header? data testo autore che sarebbe la mail score e azioni giusto? the test autore score election ok quindi cinque celle cinque colonne ok ora facciamo una cosa analoga nel t-body cosa dobbiamo scrivere nel t-body tr e poi le colonne nel body si scrivono td invece che th d di domodossola e qui andiamo a inserire il contenuto corrispondente rispetto a data testo autore eccetera quindi se usiamo le stesse risposte che abbiamo nel database della settimana scorsa la prima è 15 febbraio 2024 la seconda è yes la terza è luca.mannellachiocciolapolito.it la quarta è meno 10 e la quinta in realtà è un qualcosa che abbiamo uguale in tutte le righe perché sono i bottoni che rappresentano le azioni ora quali azioni possiamo immaginarci anche ricordandoci quello che abbiamo fatto nel server la scorsa volta quali azioni possiamo immaginarci di fare su una risposta delete cancellarla poi aumentare lo score diminuire lo score e poi potremmo anche aggiungere una nuova non è una azione che facciamo sulla risposta ma ne facciamo sulla domanda in un certo senso sulla risposta possiamo anche modificarla aggiornarla ok quindi qui potremmo avere dei bottoni quindi button in questo td in cui il primo bottone potrebbe essere vota quindi incrementa o decrementa il il punteggio il secondo potrebbe essere modifica e il terzo potrebbe essere cancella quindi tre bottoni come facciamo a creare un'altra riga nella tabella facciamo esattamente quello che abbiamo fatto adesso un altro tr un altro td eccetera ora dato che facciamo in maniera più prate che la struttura è la stessa facciamo copia e incolla e i bottoni sono gli stessi quindi non dobbiamo modificarli dobbiamo solo modificare la data e la seconda data è il primo marzo e la risposta è not in a millionaire e la password e la password e la mail era guido parola chiacciola item.org e lo score era 5 e i bottoni sono quelli di prima poi se volessimo potremmo fare un'altra riga che rappresenta la stessa un'altra risposta però il meccanismo è lo stesso ok immaginiamo per ora che ci siano solo due risposte è inutile andare a farne 27 ok dopo la tabella cosa ci manca e poi ci aggiungiamo un po' di stile con bootstrap il footer e che tag usiamo per il footer footer e nel footer abbiamo detto che possiamo scrivere vedete un paragrafo per esempio copyright 2024 applicazioni web 1 dove questo e commerciale copy punto e virgola è il simbolo del copyright e commerciale qualcosa punto e virgola sono tutti caratteri speciali incluse le lettere accentate quindi esiste un e commerciale e grave punto e virgola per fare l'accento della e grave e acute per fare l'accento della e acuto e a grave a acute e qualunque altra i qualunque altra lettera possa avere un accento anche se non è sulla tastiera ok ora se noi salviamo questo e vediamo cosa appare abbiamo la nostra tabella e il nostro footer sì la parte centrale non dovrebbe metterla in main o article come lo abbia sì sarebbe meglio in effetti la tabella praticamente o anche tipo question question sì 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 la tabella con sì 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 si potrebbe mettere un tag main che contenga il corpo fino al footer sì quindi tutto questo fino qua e poi qui andiamo a chiudere il main per indicare che il corpo centrale della pagina così vanno diviso l'header dal main dal footer e ovviamente nella pagina esteticamente non cambia niente ok quindi questa è la pagina html senza stile perché qui c'è dello stile perché qui c'è dello stile c'è qualcosa più grosso di altro c'è qualcosa in grassetto chi mette quello stile il browser quindi c'è ogni browser ha un suo stile di default che è simile non identico rispetto ai vari browser e applica delle convenzioni di default anche se non lo scriviamo nella pagina html se no questo qua sarebbe tutto testo una riga sotto l'altra ok mettiamoci un po' di stile con bootstrap allora se vogliamo usare bootstrap la prima cosa da fare è quella di se lo sapete è quella di non lo installiamo però si è quella di includerlo nella pagina html che vogliamo in cui vogliamo utilizzarlo come lo si include bootstrap ha nella sua guida come dicevo le istruzioni per farlo quindi quello che dice prima di tutto se avete un file html dovete avere un char set a utf8 e noi già ce l'abbiamo dovete mettere questo metaname viewport che imposta lo zoom iniziale della pagina e la grandezza di default della pagina questo serve per rendere la pagina responsive perché bootstrap è responsive di natura quindi se si riduce la pagina la pagina si ridisegna quindi un'applicazione fatta utilizzando bootstrap vista sul browser di uno smartphone appare diversamente rispetto a vista su un può apparire diversamente rispetto a vista su un computer e questo ci serve per impostare la vista iniziale del del browser in questo senso quindi ci serve questo tag meta che andiamo a inserire qui in quanto è obbligatorio in un certo senso poi il titolo ce l'abbiamo già dobbiamo anche aggiungere il CSS di bootstrap che è questa riga qua che ci viene dato anche sotto comunque quindi importare il CSS di bootstrap sempre sempre nel nel led e poi per avere alcune funzionalità di interattive che bootstrap ci offre per esempio il modale che abbiamo visto prima possiamo anche importare il javascript di bootstrap che è quest'altra riga qui sotto con script questo lo importiamo in fondo al body per ora quindi come vi dicevo molto di bootstrap è copia e incolla di quello che che ci viene detto di fare sulla documentazione per ottenere il risultato che vogliamo ottenere quindi questo imposta bootstrap quindi incolliamo lo script incolliamo il file CSS e aggiungiamo la viewport per renderlo funzionante e se noi torniamo su questa pagina e facciamo refresh cosa vi aspettate che già succeda abbiamo solo importato bootstrap cambia che poi sia più bella più brutta non lo so però cambia perché si fa la sovrascrittura delle regole CSS del browser con le regole che bootstrap sta definendo e in questo caso vedete definisce dei fonti diversi definisce dei bottoni diversi ovviamente adesso dobbiamo andare poi a personalizzare i singoli aspetti che vogliamo personalizzare quindi partiamo dalla navbar quindi andiamo a vedere il componente navbar qui e possiamo scegliere poi eventualmente un colore diverso per esempio questa questa blu e a noi in questo momento serve una navbar semplice in quanto se guardiamo il nostro disegno non c'è niente nella navbar c'è solo il titolo giusto? quindi non ci servono bottoni particolari quindi tra i vari esempi di navbar ci basta quella che che include poche informazioni quindi solo il brand quindi solo il titolo diciamo e e nient'altro essenzialmente quindi queste tre righe sono quelle che in prima battuta ci bastano e poi noi non abbiamo neanche il link lo possiamo aggiungere noi non abbiamo neanche un link in questo momento quindi possiamo usare la seconda perché il titolo non è un link in questo momento è solo un titolo allora cosa fa questa navbar allora usa il tag nav come abbiamo fatto prima aggiunge delle classi in questo caso sono classi di bootstrap sono classi CSS che definiscono alcuni componenti alcuni comportamenti quindi la prima indica che è una navbar la seconda classe le altre classi seguenti a navbar indicano cose relativamente al colore alle spaziature e quant'altro poi c'è questo div che è un container fluid che ci dice che la navbar deve essere in un container in bootstrap ci sono due tipi di container c'è il container fluid e il container non fluid dove la differenza è che uno è appunto responsive e l'altro è invece più fisso come dimensioni e poi ci aggiunge uno span che è un componente in line in cui ci mettiamo il titolo della navbar questo navbar brand è la classe che rappresenta il titolo quindi lo fa apparire in questo modo e mb0 h1 dice che deve applicare la stessa classe che applicerebbe ad h1 in quanto un titolo mb0 sono classi di utilità di bootstrap tutto questo è nella documentazione io vado solo a memoria che indicano che sono composte di due lettere un trattino un numero in questo caso mb0 sta per margin bottom 0 quindi il margine sotto dell'elemento deve essere messo a 0 esiste anche un mt margin top esiste anche un pb padding button pt padding top quindi le varie componenti si possono mettere in questo classe utilità e utilizzare 0 vuol dire resettarlo 1 non vuol dire un pixel 1% eccetera ma vuol dire solo una unità definita da bootstrap e mi sembra ci sia fino a 5 quindi mb0 1 2 3 4 5 in ogni caso tutto questo è nella documentazione su questo sito quindi se noi prendiamo questa e andiamo nella nostra applicazione noi abbiamo già una navbar quindi dobbiamo solo applicare le cose che ci sono diverse quindi aggiungiamo una classe che abbiamo detto sia navbar e non usiamo questo bg body terzeri ma usiamo un bg primary che è il colore blu quindi bg sta per background poi ci serve questo container fluid ogni bootstrap funziona in questo modo c'è un container c'è una riga ci sono le colonne all'interno della riga ci deve essere sempre questa struttura se c'è una colonna e non c'è una riga che lo contiene bootstrap non funziona in maniera corretta e quindi il risultato può essere non quello atteso container dentro una riga dentro una colonna o più colonne quindi ci vuole sempre un container in questo caso non è una riga perché è una navbar e qui mettiamo span e mettiamo queste classi e qui lasciamo lo stesso testo che avevamo prima e quindi questo non ci serve più se andiamo a vedere cosa è successo vediamo che la navbar è diventata blu e questo è diventato questo più grassetto di prima e il nero su blu non è tanto leggibile giusto? sì o no e quindi possiamo trasformarlo in dire che la navbar è una navbar è una navbar scura ci sono due classiche che indicano se la navbar ha un background scuro oppure no in questo caso ha un background scuro quindi come se fosse nero e quindi possiamo dire che la navbar ha un background scuro con la classe navbar dark questo cosa fa? rende il testo bianco chiaro perché ci si aspettano navbar scura e quindi il testo di conseguenza è fatto in maniera diversa ok 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 ora andiamo avanti a ristrutturare il codice cosa dobbiamo fare quindi nel main cosa abbiamo detto che abbiamo appena detto che bootstrap richiede un container una riga e delle colonne quindi per prima cosa cosa ci serve? non ci serve necessariamente un div perché abbiamo già un main però ci serve un container riga colonna cosa ci serve? ok rifacciamo bootstrap funziona richiede questo comportamento questa struttura questo layout che ci sia un qualcosa che abbia la classe container che al suo interno contiene un qualcosa che abbia una classe riga raw che al suo interno contenga un qualcosa che abbia una classe column col qualcosa che sono le colonne all'interno della riga ok questa è la struttura base container una riga le sue colonne un'altra riga le sue colonne un'altra riga le sue colonne dove la riga è la divisione orizzontale e le colonne invece la divisione verticale se noi vogliamo applicare questa struttura al nostro main qual è la prima cosa che dobbiamo aggiungere? il container quindi abbiamo già il main che non ha classi quindi possiamo specificare classe qui container fluid come nella navbar così è è coerente poi cosa ci serve dentro un container? vi ho appena detto una riga quindi qui non abbiamo un contenitore cosa ci sarà nella nostra riga? nella nostra riga ci sarà tutto questo idealmente la domanda è anche perché nel nostro disegnino l'autore è tutto a destra e la domanda è tutta a sinistra quindi questa è un'unica riga la riga dopo sarà il titolo answer e la riga dopo sarà la tabella la divisione orizzontale della pagina quindi ci serve un contenitore di tutto questo che in questo caso può essere un div e la classe sarà riga giusto? cosa abbiamo detto che ci deve stare sulla riga dove c'è la domanda? il testo della domanda o in questo caso abbiamo anche domanda numero e poi l'autore ok quindi facciamola così mettiamo la domanda numero e poi l'autore sulla stessa riga e la risposta in un'altra riga così vediamo la differenza quindi ci serve questo e ci serve l'autore sulla stessa riga vanno bene paragrafi? perché no? questo non è così importante in questo momento certo mancano le colonne ok con le colonne facciamo sì che il primo paragrafo stia fino a un certo punto della riga e poi facciamo un'altra colonna dove c'è il resto quindi sono blocchi che in questo caso non vanno a capo perché terminiamo in un certo senso la pagina prima che possono andare a capo quindi le colonne quindi ogni paragrafo abbiamo bootstrap definisce 12 colonne nella sua larghezza e le colonne si identificano col meno il numero di quanto spazio volete occupare su queste 12 colonne quindi col 12 occuperà tutta la pagina col 1 occuperà un dodicesimo della pagina col 6 metà della pagina quindi in questo caso potremmo usare col 6 quindi metà della pagina lo dedichiamo al blocco che dice question 1 e l'altra metà della pagina la dedichiamo al blocco che dice chi dice chi è l'autore così non viene allineato a destra certo sono consapevole un pezzo alla volta così vengono sulla stessa riga come possiamo migliorarlo questo dobbiamo allinearlo a destra e poi cosa potremmo anche fare se guardate questa pagina cosa vorreste fare tra staccarlo un po' dalla nav nav bar quindi per staccarlo un po' della nav bar potremmo qui mettere un margin top 3 mt3 margin top 3 che ce lo stacca un po' per allinearlo a destra invece cosa faremmo concettualmente cosa vorremmo fare concettualmente se usiamo invece di un call 6 un call 8 e un call 4 l'abbiamo allineato a destra no perché comunque sta allineato a sinistra solo un po' più in là noi invece vogliamo allinearlo a destra quindi cosa vorremmo fare per allinearlo a destra un text align a destra potremmo farlo su un CSS nostro bootstrap offre già una classe che fa esattamente quello che si chiama text end quindi text meno end allinea il testo alla fine della pagina ecco bootstrap non usa destra e sinistra ma usa start ed end per indicare destra e sinistra perché funziona anche nei linguaggi dove si inizia a scrivere da destra invece che da sinistra e quindi uniforma con l'inizio e la fine non importa quale sia l'inizio nel nostro caso l'inizio a sinistra e la fine a destra quindi con text end abbiamo che abbiamo comunque due colonne per cui se facciamo ispezione elemento vediamo per esempio che questa è proprio su una colonna che è metà pagina e quest'altra è proprio su una colonna che è l'altra metà pagina sì in questo caso è più corretto un div perché è un blocco noi non vogliamo avere degli elementi in linea noi vogliamo avere blocco proprio quindi è più corretto usare un div ok ora facciamo più o meno la stessa cosa con la domanda cosa dobbiamo fare con la domanda con la domanda vera e propria un'altra riga quindi in questo caso non c'è un comportamento semantico da associare alla domanda a questa riga perché è una riga è solo stile possiamo dare una classe a questa paragrafo di tipo lead che ci cambia così il testo in questo modo ecco dovremmo se rispettassimo esattamente bootstrap anche aggiungere una colonna 12 se vogliamo usarlo in terra riga ok io suppongo che ormai abbiate capito il procedimento quindi se volessimo gestire H2 cosa dovremmo fare cosa dobbiamo fare per gestire H2 per mettere H2 in formato bootstrap un'altra riga con dentro H2 e H2 deve avere come classe col col quando non è specificata occupa tutto lo spazio a disposizione quindi in questo caso col è 12 tutta la riga tanto a noi serve solo una riga e poi per la tabella cosa ci serve ancora una volta una riga quindi includiamo tutta la tabella in una riga poi se volessimo per esempio avere la tabella in questo caso vedete la tabella è centrata nella pagina non occupa tutto lo spazio come il resto quindi se volessimo averla centrata potremmo per esempio aggiungere una un div con classe col 10 quindi non occupare tutto lo spazio su 12 ma occuparne quasi tutto su 10 e centrarlo con mx auto mx sta margin sulla x quindi destra e sinistra auto impostate in automatico quindi se noi aggiungiamo questo ulteriore div alla tabella quindi che include la tabella dovremmo passare a una tabella che è centrata nella pagina vedete lo spazio che la tabella occupa è centrato nella pagina poi la tabella è più corta quindi sta allineata a sinistra ma perché non abbiamo ancora messo la tabella con le classi di bootstrap stiamo ancora usando la tabella normale sì probabilmente avremmo potuto bisogna possiamo provare dopo perché adesso noi alla tabella andiamo ad aggiungere altre classi quindi dobbiamo essere sicuri che le classi che aggiungiamo alla tabella non sovrascrivano qualcosa che è definito nella call 10 mx auto allora avendone nel contenitore c'è un comportamento diverso dato che la tabella ha tante cose al suo interno quindi sistemiamo la tabella in bootstrap la tabella in bootstrap ha una classe che si chiama table il thead definisce come classe e di nuovo tutto questo nella documentazione se la tabella ha un aspetto chiaro oscuro esattamente come in maniera analoga a quello che succede per navbar e quindi ci può essere un table light per esempio e poi il resto non cambia se non per i bottoni perché i bottoni possiamo usarli come bottoni veri e propri di bootstrap quindi applicando quindi passando da questa cosa qui grigia a un qualcosa con i bordi arrotondati colorati eccetera e quindi possiamo scrivere classe i bottoni funzionano in maniera concettualmente analoga alla navbar navbar è una classe che è navbar e poi altre classi che specificano il comportamento di quella navbar i bottoni funzionano in maniera analoga c'è una classe che si chiama btn che è la classe di tutti i bottoni e poi le altre classi dopo specificano per esempio il colore quindi se noi volessimo questo vote giallo scriveremmo btn warning nel linguaggio di bootstrap il warning è sempre associato a qualcosa di giallo il danger è sempre associato a qualcosa di rosso il primary è sempre associato al blu il success è sempre associato al verde quindi un button warning è giallo un button primary è blu un button success è verde un button danger è rosso se facciamo la stessa cosa con l'edit l'edit potremmo farlo blu quindi btn primary e il delete potremmo farlo rosso quindi btn btn danger ok? ok? quindi se noi aggiorniamo vedete la tabella occupa tutto lo spazio innanzitutto perché è diventata una tabella di bootstrap ha un'intestazione con uno sfondo e i bottoni non sono più quelli di default che si vedono nella seconda riga ma hanno acquisito questo colore questo stile diverso e i bottoni poi in bootstrap si possono fare più piccoli più grandi con sempre btn meno qualcosa btn meno sm è un bottone piccolo small lg è un bottone large x lg è extra large eccetera senza niente di dimensioni standard per bootstrap ora la stessa cosa dovremmo farla anche per gli altri tre bottoni ovviamente quindi possiamo copiare incollare questi tre bottoni e metterli qui così la tabella è interamente fatta ok sì per far andare il footer a fondo pagina per far andare il footer a fondo pagina bootstrap non ha una classe di suo per fare questo e quindi bisogna farla noi quindi se volessimo finire col footer quello che potremmo fare è innanzitutto applicare un container fluid al footer perché siamo fuori dal main quindi sempre un container fluid potremmo creare una nostra classe footer che ci permette di metterlo in fondo e poi dentro qui ci vuole ovviamente una riga come prima e e qui anche deve essere il p deve avere class col perché c'è una riga c'è una colonna e poi dovremmo crearci un file css chiamiamolo custom.css in cui creiamo la classe footer in cui per metterlo in fondo cosa dire beh potremmo mettere per esempio un colore di sfondo il grigio di bootstrap è un bbd 8f6 e visual studio code poi vi permette anche di personalizzare il colore vedere che colore è e personalizzarlo se volete quindi questo è lo sfondo del footer e per metterlo in fondo dobbiamo scrivere position absolute foot e bottom 0 e questo dovrebbe bastarci per metterlo ancorato in fondo della pagina è sempre lì la nostra pagina è finita non abbiamo molta altra roba però quindi in questo caso specifico abbiamo una tabella col footer bloccato sotto quindi in questo caso stiamo bloccando il footer in fondo alla pagina non lo stiamo solo mettendo là ma quindi tutto il contenuto finirà dietro al footer se ci fosse il contenuto scrollabile e poi ci avanza ad importare questa classe questo file CSS quindi il link e il file si chiama custom.css e quindi se noi facciamo refresh vediamo che il footer è andato in fondo ha uno sfondo blu e potremmo anche staccarlo un pochino dall'inizio del footer per esempio con mt 3 come prima così c'è un po' più spazio ok poi quello che potremmo raffinare cose più precise che potremmo fare è per esempio bootstrap a e poi facciamo pausa bootstrap ha per esempio delle icone che si possono utilizzare e quindi noi per esempio invece di avere il bottone vota edit delete potremmo avere un'icona che rappresenta il vota un'icona che rappresenta l'edit un'icona che rappresenta il delete e quindi rimpiazzare il testo con un'icona specifica quindi questo bootstrap icon è un'alternativa compatibile con bootstrap ho fornito dagli stessi che hanno creato bootstrap e quindi in questo caso bisogna importare il css e poi si può utilizzare direttamente una delle icone che qui ce ne sono un certo numero e se cliccate sopra vi dice come applicarla quindi se voi importate il css di bootstrap icon questo tag vi permette di inserire l'icona nella pagina html e questo si chiama bootstrap icons ok facciamo un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo se avete domande nel frattempo sono qua grazie